Ho fatto concerti davanti a tre persone, quattro persone, pizzerie, locali, pub, a volte non mi hanno manco pagato e che fai protesti, notte, embriachi e vai avanti, furgone, chilometri, benzino, pensa che c'era Marco, chitarrista dei giornalisti, che controllava anche le stazioni dei benzinai per risparmiare, non sto scherzando, abbiamo smontato palchi da soli, io poi penso che questo sia un valore in più in generale.